Ancora un 1-3 del Legnano qui a Soverato dopo la vittoria nella prima giornata di campionato, si ripete nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia 2, coach Andrea Pistola, una vittoria meritata delle sue ragazze, una partita vinta 3-1 e una serie ipoteca messa su questa qualificazione, anche se logicamente ancora c'è la gara di ritorno. Esatto, ogni partita fa storia a sé, quindi il livello è molto vicino alle due squadre, quindi ancora il risultato è tutto aperto e noi sappiamo che comunque dobbiamo ancora fare la nostra partita a Legnano, quindi siamo contenti perché stasera comunque siamo venuti qui, abbiamo fatto quello che ci eravamo proposti, credirle al servizio, penso che alla fine siamo riusciti a metterle abbastanza in difficoltà in battuta e abbiamo lavorato anche discretamente bene sulle scelte d'attacco, quindi sono contento per la prestazione stasera. Vi siete affrontati a distanza di tre giorni, perché domenica scorsa le avete affrontati in casa nella prima di ritorno di campionato, a suo giudizio cosa è cambiato tra le due partite? Perché anche lì comunque ci sono stati almeno due set molto tirati, oggi ce ne sono stati quasi tre, si può dire, mentre nell'ultimo siete stati bravi dopo l'interruzione a rientrare in campo decise, avete creato il vantaggio in battuta soprattutto. Sì, infatti tutti i tre set di Legnano sono stati comunque equilibrati, i primi di stasera ugualmente, adesso l'ultimo abbiamo trovato una serie di servizi buoni sia con la Mingardi che con la Facchinetti, quindi lì c'è andata bene insomma che siamo riusciti a allungare in questo quarto set che poi era equilibrato fino a quel punto, quindi direi che è stato soprattutto questo il servizio che è stata la cosa che ci ha dato più risultato. Legnano sin qui era considerata da tanti addetti ai lavori la sorpresa di questa prima parte di stagione, però adesso le partite passano e la squadra si sta confermando, quindi possiamo parlare più che di una sorpresa adesso di una realtà di questo campionato di A2? Stiamo facendo bene, siamo contenti, abbiamo fatto delle scommesse su delle ragazze molto giovani all'inizio stagione, ci stanno ripagando perché comunque stanno lavorando bene in palestra e hanno fatto delle prestazioni molto buone e quindi siamo contenti perché insomma la finalità del nostro progetto era questo, creare un gruppo giovane che potesse far bene, adesso al di là di quanto arriveremo in classifica penso che alla fine è importante che giochiamo una buona palla a volo e che ce la giochiamo con tutti. Coach Saia, sconfitta 3-1 della Volle Soverato in questa andata dei quarti di finale di Coppa Italia a due, tre set equilibrati, poi però nel quarto dopo la pausa sul 10-13 perché si erano spente due luci del Palas Coppa alla ripresa del gioco, il servizio di Legnano ha fatto la differenza? Sì, devo dire che nell'ultima parte loro sono riusciti a creare un solco in battuta con Mingardi che ci ha frastornato, le ragazze erano ancora probabilmente fredde, abbiamo cominciato con due errori dopo la ripresa e questo ha fatto in modo che Legnano prendesse il largo. C'è molto dispiacere, molto rammarico perché eravamo riusciti a tenere testa a Legnano per tre set in realtà, cercando di avere continuità in attacco e cercando di essere più precisi in ricezione di come abbiamo fatto domenica. Qualcosa c'era riuscito, abbiamo provato a miscare le carte anche nella linea di ricezione però questo non è stato sufficiente, loro hanno un attacco che con palla in mano dà molto fastidio e noi non siamo riusciti col servizio troppo spesso a mettere in difficoltà. Quando abbiamo battuto in maniera incisiva loro sono andati in difficoltà e abbiamo vinto il set, altrimenti abbiamo sempre pagato quelle 1 o 2 situazioni che ci hanno penalizzato e che ci hanno portato a questo 3 a 1. A proposito di queste situazioni, nel primo set siete partiti subito sotto 4 a 0 e probabilmente quel break iniziale è stato quello che ha deciso il parziale perché poi da lì in poi il parziale si è svolto punto a punto quindi probabilmente quell'inizio un po' in sordina vi ha condannato a perdere il primo parziale, sappiamo poi che quando si parte male è sempre difficile recuperare. Sì, Legnano è una squadra che quando fa 1 o 2 break di differenza diventa difficile da arginare perché sono ragazze molto giovani che si entusiasmano molto facilmente e che ripeto hanno un attacco veramente competitivo per l'alto livello della 2. E quindi creando un solco tra le due squadre diventa difficile fare dei contro break e riportarsi in parità. Per questo abbiamo cercato di rimanere sempre comunque in partita, cambio palla dopo cambio palla, non ci è riuscito per due set e questo poi è il risultato finale. Domenica si gioca nuovamente in casa per la seconda giornata di ritorno, arriva il Chieri, una squadra ostica e una partita importante anche nell'economia della classifica visto che sono due squadre che lottano nella zona playoff. Per noi ogni partita è importante, questo era importante per la Coppa Italia, Chieri sarà importante per il campionato per riuscire a riprendere un passo che si è fermato, che ha avuto una battuta d'arresto nella scorsa giornata. Quindi sappiamo che ogni partita per noi è importante e che dobbiamo cercare di giocarla al meglio, per questo sto cercando di attingere da tutte le risorse possibili della Rosa per cercare di mettere in campo la squadra che in quel momento può esprimere la palla a volo migliore. Ringrazio tutte le ragazze per l'impegno e per la pazienza che stanno mettendo negli allenamenti e nel farsi trovare sempre pronte quando vengono chiamate in causa. Ringrazio tutte le ragazze per l'impegno e per l'impegno e per l'impegno.